Direttorio e terrore bianco, parte finale della rivoluzione francese e soprattutto rivoluzione termidoriana. Questi sono gli argomenti della live di stasera. In buona sostanza, la volta scorsa noi abbiamo concentrato la nostra attenzione su questo signore, Maximilien Robespierre. Maximilien Robespierre aveva in mente molto chiaramente quello che voleva realizzare, una democrazia compiuta, una democrazia perfetta, dove si potessero dare strumenti, quindi strumenti politici come il suffragio universale, e anche intervenire a livello economico per le classi sociali più basse. I cosiddetti sanculotti, ad esempio, in modo particolare, cioè i popolani di Parigi, cioè quelle persone che avevano preso anche le armi per portare avanti la rivoluzione francese, sin dall'inizio. Quelle che non potevano permettersi le culotte, insomma, i pantaloni dei nobili. Quindi in funzione sicuramente antinobiliare e anche anticlericale. Ebbene, questo signore però era arrivato al punto di sospettare di tutti, proprio nel giugno di quel 1794, aveva fatto una legge per cui il Comitato di Salute Pubblica era autorizzato a emanare condanne a morte anche senza prove. Cioè bastava solamente il sospetto. Eravamo arrivati veramente al massimo, appunto, vi dicevo, della paranoia. Certe volte ci sono delle persone, magari che portano avanti anche delle ideologie accettabili o importanti o significative, che però si lasciano un po' prendere la mano. È il caso, appunto, di questo signore, Maximilien Robespierre. Certo, se vai a condannare a morte 40.000 persone e anche i tuoi amici, i tuoi amici, quelli che ti hanno seguito fino all'altrieri, come Danton e tanti altri, beh, vuol dire che qualcosa effettivamente non sta più andando per il verso giusto, proprio per il verso della ragione, che era il verso che Maximilien Robespierre aveva voluto sin dall'inizio intraprendere. poiché era un illuminista. Andiamo avanti a parlare invece di un altro personaggio, un personaggio sicuramente minore, ecco, per quanto riguarda la storia francese, che era in buona sostanza un deputato dell'Assemblea Nazionale, della Convenzione, volevo dire, cioè in pratica del Parlamento, proprio quel Parlamento che aveva avvallato le proposte di Robespierre, sin dalla proposta di condanna a morte del re Luigi XVI, fino appunto al Comitato di Salute Pubblica, eccetera. Questo stesso Parlamento incomincia a dubitare fortemente che ci siano più le condizioni perché continui, persista, questo terrore, appunto questa ghignottina che in quell'epoca lì stava veramente, era continuamente in funzione. Non aveva momenti di pausa, si può dire. È proprio nel giugno 1994 che si intensifica il terrore, ma ormai vinti i nemici interni ed esterni, a molti non sembrano più necessarie misure di emergenza, tanto che perfino alcuni dei Giacobini lasciano Robespierre perché lo vedono veramente sempre più come una belva assetata di sangue. E allora che cosa succede il 27 luglio? Il 27 luglio i nemici di Robespierre, Ah, ecco, vediamo proprio che cosa succede. È il cosiddetto Termidoro, nove Termidoro. Vi ricordate che i mesi avevano un nome che richiamava la natura? Ad esempio, che cosa avviene proprio durante il periodo di luglio, quindi dell'estate? Avviene per esempio che le spighe biondeggiano, no? E così era stato dato questo nome, il nome di Termidoro, a questo periodo dell'anno, appunto a luglio. Il nove Termidoro, perché il Termidoro è fra la fine di luglio e l'inizio di agosto, c'è una seduta della Convenzione e questo Jean Lambert Allier, che abbiamo visto prima, minaccia con un pugnale Maximiliano Robespierre durante appunto la seduta del nove Termidoro. tutti i deputati che non stanno più seguendo, non hanno più intenzione di seguire Robespierre in questa escalation di violenza, Giacobini moderati anche, oppure, diciamo, moderati di centro o addirittura di destra, ma perfino estremisti di sinistra, perché vi ricorderete, l'abbiamo spiegato anche la volta scorsa, che erano stati condannati a morte anche, diciamo, dei montagnardi, quindi, come dire, degli alleati politici di Robespierre, che erano ancora più a sinistra di lui. Anche questi erano stati condannati a morte. Beh, tutti quanti addirittura si equalizzano dall'estrema sinistra alla destra, chiamiamola così, della Convenzione, contro l'autocrazia di Robespierre, l'autocrazia vuol dire che ormai il governo è nelle sue mani, uno zar, insomma, uno che accentra in sé il potere e che tutto quello che deve essere deciso deve passare da lui. Tutti quanti si coalizzano contro di lui, contro Robespierre. Lo accolgono al suo arrivo in aula con il grido «A basso il tiranno!» Gli altri deputati, cioè quelli della Convenzione, i suoi colleghi, tra virgolette. Robespierre fugge, si tira perfino un colpo di rivoltella alla mascella, perché forse intuisce che le cose si stanno mettendo male per lui e preferirebbe togliersi la vita da solo, ma non riesce ad uccidersi. Vediamo che cosa succede in quei giorni concitati. Dovete sapere che un punto di appoggio fondamentale per Robespierre era l'Hotel de Ville. L'Hotel de Ville era praticamente il municipio, il comune di Parigi, o la comune, come verrà chiamata, lo studieremo anche nel 1870, perché lì sicuramente si trovano le frange più democratiche e quindi anche più vicine ai Sanculotti. Che cosa succede? Che la convenzione, ormai appoggiata dall'esercito, circonda l'Hotel de Ville, cioè circonda il palazzo comunale dove si trova Robespierre. C'è questo assalto, c'è questo assedio e quindi Robespierre viene arrestato. Questa è l'illustrazione che rappresenta l'arresto di Maximiliano Robespierre all'Hotel de Ville la notte del 10 Termi d'Oro, quindi giorno seguente il 9 Termi d'Oro. Ecco, potete forse anche da questa illustrazione intravedere quell'episodio di cui vi ho narrato prima, cioè il tentativo da parte di Robespierre di rivolgere la rivoltella contro se stesso, piuttosto di cadere nelle mani dei nemici. C'è di questi, appunto, dicevamo, soldati che seguono gli ordini della Convenzione, cioè del Parlamento. Bene, qui abbiamo proprio invece un dipinto che ci rappresenta Robespierre ferito insieme agli altri arrestati detenuti in attesa dell'esecuzione sulla ghigliottina in quello stesso Hotel de Ville. Cioè lì è stato arrestato e lì è rimasto imprigionato da queste truppe, dai soldati, appunto, dai termidoriani. Ecco, da questi... Tra l'altro, ecco, lo vedremo anche la volta prossima, incomincia a... come dire, ad esserci, se vogliamo, anche nel lessico politico, ecco, storico politico, da questo momento in poi il termine di colpo di Stato o di colpe se volete usare un termine così alla sudamericana. Nel senso che avviene quando c'è un rovesciamento non per via di una sollevazione popolare, quindi una rivoluzione, ma per via di un'alleanza magari fra politici ed esercito. E lo vedremo un po' di volte anche in questi ultimi anni del 1700 francese. non è da solo. Robespierre, insieme con i suoi più fedeli amici e deputati e giacobini che l'hanno seguito sempre e comunque in questi ultimi anni. E' stata emessa però una condanna per direttissima, condanna a morte per direttissima, diciamo tra virgolette in un certo senso quello che chi di spada ferisce di spada perisce, chi di ghigliottina ferisce, di ghigliottina perisce, nel senso che è stato usato con Robespierre più o meno lo stesso metodo che lui insieme con il Comitato di Salute Pubblica stava usando per tutti i suoi oppositori politici o anche quelli semplicemente sospettati di essere suoi oppositori politici. A quel punto non era stato più possibile mantenere il potere se non attraverso appunto il terrore. quindi il 10 termi d'oro il giorno seguente il 28 luglio Robespierre viene arrestato imprigionato e poi sarà giustiziato insieme con Saint-Just e Couton qui vediamo i dipinti che ci rappresentano questi altri due Giacobini amici di Robespierre e dobbiamo dire che la cosa non è finita lì perché il giorno seguente l'11 termi d'oro ne sono stati giustiziati addirittura 71 dei seguaci e fedeli amici di Robespierre. in buona sostanza c'è stata una svolta politica importante importantissima adesso abbiamo una immagine di colui che ricordiamoci almeno questo termidoriano veramente rimarrà fino al 1799 addirittura un politico un uomo politico di spicco possiamo dire il direttore nel senso che ci sarà sempre lui all'interno del direttorio e darà un'impronta fondamentale a quest'epoca che è un'impronta senz'altro di ritorno al potere della borghesia è un'impronta chiamiamola così per esemplificare in un modo piuttosto grezzo moderata è comunque ostile agli estremismi sia di destra quindi lealisti realisti nostalgici insomma della monarchia sia di sinistra quando parleremo di Gracco Baboff e Barrat Paul Barrat è un politico che addirittura era giacobino era dalla parte di Robespierre era stato molto vicino a Robespierre qualche tempo prima poi piano piano però si era un po' allontanato da lui è anche abbastanza opportunista è un buon politico ecco diciamo così Barrat è un politicone ecco che riesce a capire dove sta andando il fumo in buona sostanza e quindi fa a tempo a slegarsi da Robespierre anzi in un certo qual modo a guidare questa rivoluzione termidoriana o colpo di stato termidoriano come volete chiamarlo poi e diventare prenderne un po' il timone dicevamo per parecchi anni tant'è vero che Barrat anche nella prima fase napoleonica avrà un ruolo importantissimo questo lo vedremo anzi sarà lui a come dire a privilegiare Napoleone a livello proprio di questo rapporto che si crea tra la politica e l'esercito di cui stavamo parlando anche prima effettivamente il suo intento sarebbe quello però di pacificare la Francia di pacificare Parigi non gli riesce del tutto ci sono troppi che vogliono vendicarsi sono troppe le volontà di rivalsa per esempio dei nobili che ci sono ancora alcuni sono in Francia e sono rimasti in Francia perché hanno continuato e continuano ad avere una certa influenza altri lo vedremo sono scappati ma diciamo che stanno aspettando l'occasione giusta per ritornare in Francia per ritornare a Parigi e magari restaurare l'anzien regime poi abbiamo il clero ricorderete che il clero si divide in due l'abbiamo visto ecco negli incontri precedenti il clero refrattario alla costituzione alla dichiarazione dei diritti dell'uomo eccetera il clero refrattario al potere rivoluzionario e invece il clero che ha sottoscritto ecco la questa costituzione e quindi diciamo che sicuramente quelli che provano maggiore risentimento nei confronti ad esempio di Giacobini sono indubbiamente quelli del clero refrattario che rientrano dall'esilio con cui sono scampati al terrore e adesso vorrebbero vendicarsi comunque anche quelli del clero come dire che si è adeguato in un certo senso alla rivoluzione non potevano aver visto di buon occhio l'impronta decisamente anticlericale che aveva preso la politica Giacobina poi ci sono i borghesi la cui iniziativa economica è stata avversata dalla politica sociale Giacobina e che ci tengono quindi a riprendere il potere proprio per indirizzare diversamente la politica economica ricorderete che ad esempio i girondini erano molto legati alla borghesia mercantile alla borghesia dei porti francesi Bordeaux e non solo nel frattempo bande organizzate assaltano i club Giacobini e danno loro la caccia si passa così dal terrore rosso rosso potremmo dire per due motivazioni uno per il sangue versato ricordavo appunto le 40.000 le 40.000 persone che sono state condannate a morte da Robespierre e l'altro sicuramente per la connotazione politica ricorderete quando c'era stata la guerra in Vandea che si fronteggiavano l'esercito rosso e l'esercito bianco adesso dopo il terrore rosso per quasi per compensazione in un certo senso per reazione meglio c'è un terrore bianco l'abbiamo messo anche nel titolo del nostro incontro e questo viene un po' dal colore della bandiera borbonica i gigni insomma bianchi no e quindi ci sono bande bande non solo di borghesi moderati ricchi eccetera ma addirittura anche di realisti o lealisti cioè di quei nostalgici della monarchia che massacrano i giacobini massacrano i sanculotti e anche certe volte il clero costituzionale il clero che aveva accettato la costituzione e così dicevamo si passa dal terrore rosso al terrore bianco abbandonata la democrazia nel 1793 democrazia proprio nel senso etimologico del termine cioè il tentativo di Robespierre comunque dobbiamo riconoscerlo di dare il potere in tutto al popolo la convenzione ipotizza persino il ritorno alla monarchia c'è infatti se non sbaglio un fratello di Luigi XVI o comunque un altro della dinastia dei Borboni che si fa chiamare Luigi XVIII ma per il momento non è disponibile a venire a Parigi e allora rimane la Repubblica quindi il direttorio il termidoro eccetera è un colpo di Stato che rimane comunque nell'ambito nell'alvio della Repubblica però con delle differenze fondamentali rispetto al periodo Giacobino viene fatta una Costituzione nuova chiamata Costituzione dell'anno terzo perché ricorderete che nel 1792 è nata la Repubblica Francese la prima Repubblica Francese ormai adesso lo sappiamo che ce ne sono state cinque siamo arrivati alla Quinta Repubblica Francese ecco dicevamo quindi che si chiama Costituzione dell'anno terzo per distinguerla dalla Costituzione dell'anno primo della Repubblica cioè la Costituzione Giacobina una Costituzione che è rimasta lettera morta che non si è mai attuata al 100% ecco invece questa Costituzione termidoriana che viene stilata votata e approvata nel 1795 quindi l'anno dopo la rivoluzione di luglio del Termidoro e il terzo anno della Repubblica quindi tornando insieme alla Costituzione del 1791 che era una Costituzione in cui diciamo si portava a compimento una monarchia costituzionale di breve durata per tutte le vicende che abbiamo visto dopo una volta nata la Repubblica ce ne saranno altre di Costituzione quella appunto del 1793 Giacobina e questa del direttorio diciamo così della convenzione nel senso dei termidoriani in questa Costituzione che cosa si dice? si dice che deve ritornare il suffragio censitario e non universale perché in quella Costituzione del 93 vi ricordate che Robespierre aveva messo inserito il suffragio universale cioè di tutti gli uomini non le donne ma di tutti gli uomini di ogni ceto sociale compreso i proletari quelli quindi che non avevano altro che non hanno altro se non al massimo la prole no ritorna il sistema censitario vale a dire che quindi possono avere un elettorato possono essere eletti ed eleggere solo quelli che hanno una determinata rendita che quindi possono anche pagare le tasse mentre gli altri al massimo sono cittadini passivi cioè non possono votare hanno dei diritti sicuramente anche diciamo i poveracci o i popolani ma non possono votare il potere legislativo questa volta è diviso in due camere noi sappiamo che questo già era avvenuto in America con la rivoluzione americana e poi anche in Inghilterra ci sono Lorde Tories l'esecutivo va a un direttorio di cinque membri a differenza del comitato di salute pubblica durante la fase giacobina che era di nove membri qua ce ne sono cinque un direttore di questi cinque viene però rinnovato e quindi cambiato ogni anno resta l'accentramento amministrativo non si tratta assolutamente di una repubblica federale questa è la caratteristica della Francia dai tempi della monarchia assoluta l'accentramento insomma una sorta di piccola svolta a destra sono aboliti quindi il suffragio universale non solo anche il calmiere dei prezzi per esempio ah scusate torniamo indietro alla slide precedente che ci mostra praticamente Paul Barra quel uomo politico che un po' è simbolo di questa stagione proprio come si vestiva quando era il capo del direttorio da direttore ecco notate che c'è una leggera differenza fra direttore e ministro infatti i ministri erano praticamente i funzionari che dovevano fare andare la macchina burocratica del governo mentre i direttori sono quelli che appunto davano le direttive a tutti a tutta l'amministrazione pubblica stavo dicendo quindi quali sono le riforme tra virgolette che si possono individuare anche in questa costituzione del 1795 abbiamo già detto suffragio censitario e non universale poi non c'è più il calmiere dei prezzi siccome abbiamo detto che adesso torna al potere la borghesia e la borghesia è liberale vuole quindi un'economia più libera scambi liberi non la presenza dello Stato così importante come era avvenuto durante il periodo giacobino di Robespierre ecco ricorderete infatti che Robespierre aveva fatto votare delle leggi che imponessero un maximum prezzo quindi massimo dei prodotti del pane ma anche di tutti gli altri prodotti e questo aveva permesso anche ai poveracci di potersi permettere i prodotti tutti dovevano poter avere da mangiare non doveva esserci il lusso adesso rifletteremo ancora su questo e tutti quanti potevano sopravvivere cosa che non era sempre così semplice con le crisi economiche che c'erano in Francia c'era spesso tanta gente che moriva di fame bene questo cambiere dei prezzi viene abolito ritorna il libero mercato e questo favorisce sicuramente la borghesia commerciale di cui vi parlavo prima abolisce anche il maximum e il minimum dei salari cioè Robespierre aveva detto che una persona che lavorava doveva poter guadagnare al massimo una certa somma ma non poteva andare sotto il suo salario non poteva andare sotto un'altra somma viene liberalizzato anche il salario e quindi automaticamente ritorna la ricchezza monetaria diciamo così delle persone che era stata un pochettino frenata nel periodo giacobino ancora è abolito l'abito unico dei rappresentanti del popolo cioè Robespierre aveva detto che i deputati dovevano essere un modello anche loro di morigeratezza cioè di coerenza morale cioè di parsimonia e quindi dovevano vestirsi tutti quanti con una camicia bianca un pantalone nero e non dovevano fare sfoggio di abiti di russo tutto questo viene abolito e qui ci sta invece la slide che vi ho preparato prima cioè da questo momento in poi i giovani soprattutto i giovani borghesi i giovani ricchi si possono permettere abiti sgargianti abiti lussuosi abiti stravaganti alla faccia dei poveri proletari che non potrebbero mai permettersi abiti del genere è il caso ad esempio dei moscaden i moscaden che vorrebbe dire più o meno profumati cioè giovani ragazzi una volta si diceva ai miei tempi i san babilini cioè giovani ragazzi che possono permettersi abiti alla moda abiti molto lussuosi abiti ricchi e profumi ancora oggi per esempio il profumo ad esempio un moscaden forse deriva dal muschio anche allora si usava il muschio per creare dei profumi di grande moda di grande prestigio e anche di grande prezzo allora questi moscaden reso in italiano con moscardini sono conosciuti anche con un altro appellativo jeunesse doré scusate la mia pronuncia francese che non è perfetta però questa espressione vuol dire la gioventù dorata si chiamavano anche così le nouvel d'andì cioè si chiamavano anche i nuovi dendi in questo caso utilizzavano invece un termine di derivazione inglese che tutti quanti conoscete insomma c'erano dei giovani anche un po' strafottenti anche un po' oltre le righe da tutti i punti di vista che poi potevano diventare anche degli squadristi nel senso che andavano a cercare i giacobini andavano a cercare i sanculotti facevano dei ride delle cacce sanguinose di sera di notte andavano a bastonarli e insomma c'è una reazione e questo è proprio il terrore bianco la reazione al terrore dei giacobini vuol dire che adesso i giacobini che erano stati i principali fautori della violenza contro gli oppositori politici adesso subiscono la violenza da parte dei loro oppositori politici che possono essere sia i deputati abbiamo già visto che mettono a morte subito una settantina e passa di robertsperiani diciamo chiamiamoli così ma anche da parte dicevamo di questi giovani figli di papà ecco che andavano in giro potevano permettersi andavano in giro squadracce chiamiamole così di sera di notte per farla pagare a questi a questi giacobini andiamo avanti ah ecco qui vediamo un'immagine proprio del direttorio non so se riuscite a intravedere i nomi ma non a caso a noi interessa questo il personaggio al centro di questi cinque direttori guarda caso è proprio Barra a testimonianza di quello che vi stavo dicendo prima cioè che Barra è sicuramente l'esponente più in vista di questa fase del direttorio poi gli altri quattro come dire erano un po' sicuramente meno influenti di lui ricapitolando nel 1795 venne emanata una nuova costituzione termidoriana repubblicana e non monarchica borghese che sostituiva quella del 93 giacobina e democratica nel senso etimologico del termine perché i giacobini avevano cercato di dare il potere al demos cioè al popolo le più importanti innovazioni furono il diritto di voto che torna ai ceti benestanti su base censitaria come avveniva nella costituzione del 1791 il potere legislativo diviso tra due camere i due parlamenti chiamiamoli così e questo è uno schema diciamo la verità che ha avuto fortuna tant'è vero che ancora oggi noi abbiamo la camera dei deputati e il senato allora in Francia nel periodo del direttorio c'era il consiglio dei 500 ritorno a un numero importante anche nella storia greca per quanto riguarda l'eclesia cioè volevo dire la democrazia che sarebbero i deputati e poi il consiglio degli anziani che sarebbero i senatori il potere esecutivo va al direttore ma anche quello legislativo tutto sommato nel senso che il direttore fa anche le leggi oltre a eseguirle amministrare eccetera composto da 5 membri nominati dalle camere eletti nelle fila dei senatori del consiglio degli anziani quindi ma con l'approvazione anche del consiglio dei 500 a questo punto compiuta la sua opera la convenzione si scioglie il potere torna definitivamente nelle mani della borghesia ma adesso vedremo che si scioglie fino a un certo punto perché che cosa fanno i deputati della convenzione fanno una legge in base alla quale quando ci sarebbero state le elezioni insomma almeno i due terzi dei nuovi deputati dovevano essere dovevano far parte della convenzione cioè dell'assemblea precedente e quindi si auto come dire confermano nella loro carica c'è da dire però che a differenza del comitato di salute pubblica di Giacobina Memoria che era un governo della minoranza il direttorio è un governo della maggioranza proprio per per esempio per la cosa che vi ho detto prima cioè che deve essere sottoposto all'approvazione delle due camere anzi il direttorio è costituito da cinque membri di una delle due camere del consiglio degli anziani deve essere votato approvato tutti i membri del direttorio devono essere eletti tra virgolette anche dall'altra camera cioè dal consiglio dei cinquecento tuttavia dobbiamo dire che il direttorio è anche un pochettino debole e questo lo si vede soprattutto in quello stesso 1795 quando per esempio c'è anzitutto tra aprile e maggio una sorta di ultima protesta dei Sanculotti cioè scendono in piazza nuovamente i popolani cercando di riportare un governo diciamo filo giacobino ecco e quindi di restaurare un governo democratico riempiono le piazze tra aprile e maggio ma per quell'alleanza fra politica e esercito di cui vi ho parlato già prima questa protesta viene sedata nel sangue siamo dicevamo tra l'aprile e il maggio del 1795 poi abbiamo vi ricordate ve lo avevo anticipato abbiamo come dire i nobili che erano fuggiti e che adesso vogliono rientrare alcuni già erano rientrati un po' alla chetichella ma altri invece decidono vorrebbero rientrare restaurando un governo un potere diciamo pre-rivoluzionario e quindi abbiamo uno sbarco in Bretagna un tentativo reazionario di restaurare un potere lealista realista monarchico e abbiamo la repressione ecco questa è importantissima per noi questa repressione avviene il 13 vendemmiaio l'anno quarto della rivoluzione quindi siamo già scusate siamo già nel 1796 che è l'anno quarto il 1796 il 13 vendemmiaio corrisponderebbe al 5 di ottobre infatti vendemmiaio era un mese della rivoluzione francese che era a cavallo fra settembre e ottobre chiamato così e lo potete intuire perché è il periodo in cui si fa la vendemmia ebbene questi nobili assaltano il palazzo della convenzione del parlamento eccetera le truppe governative sono comandate da svariati generali tra l'altro c'è lo stesso Barat anche a guidare l'esercito termidoriano l'esercito del direttorio ma ci sono parecchi generali tra questi si distingue pensate un po' chi nella repressione di questa sommossa reazionaria dei nobili si distingue lui Napoleone Bonaparte che è quello di cui parleremo ovviamente a partire dal 13 aprile il 13 aprile ci sarà solo il nostro primo incontro sull'età napoleonica quindi l'incontro sull'ascesa di Napoleone la prima fase la campagna d'Italia parleremo il 13 aprile ma già qui questo episodio lo fa chiaramente emergere fra gli altri generali per le sue capacità strategiche per la sua determinazione insomma il 5 ottobre come possiamo vedere in questo disegno si spara sui monarchici che protestano contro il decreto che impone la rielezione dei membri della convenzione nel nuovo parlamento i monarchici infatti avevano sperato con delle nuove elezioni di ripopolare il parlamento e invece abbiamo già spiegato prima che quelli della convenzione avevano detto che in buona sostanza la maggior parte dei nuovi deputati dovevano essere quelli che avevano fatto parte della convenzione questo poteva essere in viso non solo ai monarchici ma anche ai popolari ma abbiamo detto che questa è la politica ormai di Barra e degli altri del direttorio cioè sedare tutti gli estremismi che siano di sinistra o siano di destra viene chiamato Napoleone buona parte eroe del 13 vendemmiaio cioè viene proclamato eroe di questa vittoria di questa repressione della sommossa reazionaria Napoleone nato ad Ajaccio in Corsica nel 1769 avviato alla carriera militare l'abbiamo già detto vi ricordate quando abbiamo parlato di Tolone nel 1792 allo scoppio della guerra tra la Francia e le coalizioni europee già si era distinto parecchio e si era legato moltissimo ai Giacobini sembrava essere proprio uno dei Giacobini più ferventi tant'è vero che nella prima fase del Termidoro addirittura era ricercato Napoleone le cose poi però evolvono in un modo diverso e col passare del tempo Barat si fida sempre di più di lui e diventa addirittura il suo generale di riferimento e lui del resto preferisce legarsi al direttorio al Termidoro eccetera piuttosto che ovviamente stare dall'altra parte perché l'abbiamo già detto era un repubblicano Napoleone e quindi di questo però ecco vi lascio un po' in sospeso perché abbiamo già detto che ne parleremo più approfonditamente dalla volta prossima proseguiamo pertanto con l'ultimo argomento dell'incontro di oggi che è la congiura degli eguali quindi abbiamo congiure dei reazionari dei nobili come questa del 13 vendemmiaio nel 1796 e poi abbiamo anche la congiura degli eguali cioè un tentativo di instaurare un potere radicale addirittura ultra giacobino possiamo chiamarlo no? cioè di instaurare una società degli eguali così la definiva Gracco Babèf lui si chiamava in realtà François Noël Babèf Francesco Natale Babèf però quando firmava i suoi articoli era un giornalista vi ricordate la volta scorsa Marat e tutti gli altri tanti altri lo stesso insomma tanti altri politici montagnardi che erano giornalisti anche Babèf era un giornalista e si chiamava Gracco si firmava in questo modo perché per i suoi ideali democratici perché così voleva ricordare il tribuno della plebe che aveva lottato per i diritti della plebe appunto del popolo contro gli aristocratici Gracco Babèf teorizza l'uguaglianza la comunità dei beni quasi da ridere pensando al termine comunione dei beni perché perché qualcosa che è presente persino negli atti degli apostoli è l'abolizione della proprietà della terra l'abolizione della proprietà privata e questa è una cosa che Robespierre non avrebbe mai sottoscritto l'abbiamo spiegato la volta scorsa Robespierre era un democratico ma non era assolutamente un egualitario cioè non voleva la soppressione della proprietà privata invece Babèf si spinge oltre cioè vuole portare addirittura anche a questo all'abolizione della proprietà privata infatti è il suo obiettivo principale questo abolire la proprietà e garantire attraverso lo Stato la distribuzione equa dei beni e dei servizi i politici al potere secondo Gracco Babèf devono fare in modo che i beni quindi appunto la giatezza possa distribuirsi equamente ugualmente a tutti i cittadini è in un certo senso un proto-comunista un pre-comunista non so come definirlo ecco cioè ha degli aspetti ciao Carmelo intanto che assomigliano in un certo senso a quello che poi verrà sviluppato nel corso dell'ottocento e del novecento con le teorie comuniche la congiura per prendere il potere però è scoperta nel 1796 Babèf è messo a morte e ghigliottinato l'anno successivo cioè nel 1797 gli altri congiurati sono arrestati alcuni di essi anche come Babèf saranno messi a morte altri invece passeranno degli anni in prigione scapperanno passeranno degli anni in prigione proprio come questo signore qua che è Filippo Buonarroti pensate che Filippo Buonarroti è un rivoluzionario italiano che addirittura è un discendente di Michelangelo Buonarroti è nato a Pisa l'11 novembre del 1761 ed è morto a Parigi il 16 settembre del 1837 come potete intuire anche da questo quadro da questo dipinto per l'epoca diciamo che è morto in età decisamente avanzata perché è riuscito a sfuggire alla repressione di questa congiura degli uguali alla quale lui aveva partecipato poi prenderà parte a tante altre iniziative moti chiamiamoli così sia in Francia dove in un certo senso si stabilisce viene naturalizzato francese come la Fayette che era andata in America sia in Italia in particolar modo nei pressi del confine tra Italia e Francia quando per esempio verrà costituita la Repubblica di Oneglia cioè una repubblica nella zona taggiasca non so come definirla della provincia d'Imperia una repubblica definita così sorella la prossima volta spiegheremo che cosa sono le repubbliche sorelle sono le repubbliche che sono costituite in generale dai francesi in territori svariati territori europei e definite sorelle perché figlie in un certo senso della rivoluzione francese perché cercano di attuare i dettami della rivoluzione francese anche in altri paesi europei è quello che avviene anche a Oneglia mi viene un po' da ridere perché io conosco molto bene la zona d'Imperia la mia amica Paola Viale tra l'altro una bravissima maestra di Sanremo e so che ci sono delle repubbliche ci sono dei borghi che spesso sono rimasti addirittura indipendenti per secoli in quella zona proprio per esempio della provincia di Imperia alcuni però con tendenze tra virgolette anche un pochettino autarchiche e quindi di stati indipendenti ma non repubbliche questa di Oneglia invece era sicuramente un laboratorio tra virgolette di democrazia e poi continua ancora dopo a partecipare ad altri moti Filippo Bonarroti è arrivato il momento di chiudere il nostro incontro leggendo qualche passo dal manifesto degli eguali ecco non so se riuscite a vederlo qua questo testo leggiamo l'inizio alla fine giusto per per capirci che è stato prodotto appunto da Gracco Baboeuf manifesto redatto da Sylvain Marechal comunque era utilizzato proprio come tutti i manifesti devono essere fanno insomma per portare avanti a livello anche diciamo di massa alcune idee in questo caso proprio le idee di uguaglianza le idee che abbiamo definito in un certo senso filo comuniste popolo di Francia per quindici secoli tu hai vissuto schiavo e perciò infelice si arriva addirittura fino all'inizio del regno dei franchi alle invasioni della Francia da parte dei franchi da sei anni tu respiri a fatica nell'attesa dell'indipendenza della felicità e dell'eguaglianza si intende dalla presa della Bastille insomma questo manifesto quindi sarà stato redatto intorno a 1795 l'eguaglianza primo voto della natura primo bisogno dell'uomo è il principale nodo di ogni associazione legittima è chiaro ed evidente che quando Babbeuf e gli altri affiliati a questa congiura degli eguali società degli eguali scrivevano queste cose avevano in mente le teorie di Jean-Jacques Rousseau che molto chiaramente io ovviamente ripeto non sono un filosofo però sicuramente abbiamo in mente il fatto che per Jean-Jacques Rousseau l'uomo diciamo che naturalmente spontaneamente è portato a vivere in comunione con gli altri uomini in perfetta uguaglianza con gli altri uomini e armonia con la natura quello che viene anche qui vi dicevo un po' grossolanamente sintetizzato con il mito del buon selvaggio poi però è arrivata la società è arrivata la divisione in classi che hanno snaturato e quindi degenerato questo stato originario dell'uomo ecco quindi l'eguaglianza è insita nel cuore dell'uomo dice Rousseau come dice Babbeuf e quindi questo manifesto degli eguali è un po' su questo ruota dall'inizio alla fine noi siamo tutti uguali questo principio è incontestato perché a meno di essere presi da pazzia non si potrebbe dire seriamente che è notte quando è giorno cioè è evidente che noi siamo uguali we share noi condividiamo la stessa umanità dice in una canzone russians sting rivolta ai russi we share the same biology noi condividiamo la stessa biologia diciamo quindi la stessa come dire la stessa consistenza diciamo biologica siamo fatti nello stesso modo io tu russo tu ucraino io borghese tu popolano tu re tu aristocratico tu zar tu nobile eccetera dobbiamo riconoscere quest'uguaglianza il popolo ha marciato sui corpi del re e dei preti equalizzati contro di lui succederà lo stesso ai nuovi tiranni ai nuovi tartufi politici assisi al posto dei vecchi se la prende Babeuf con questi tartufi approfittatori quindi sarebbe non so se avete in mente Molière come appunto Barra secondo tutti i termidoriani secondo Babeuf che si sono assisi al posto dei vecchi hanno preso il potere al posto dei vecchi ma stanno perpetrando le stesse disuguaglianze ci serve che questa eguaglianza non sia soltanto scritta nella dichiarazione dei diritti dell'uomo del cittadino tra l'altro adesso ci saranno anche i doveri nella costituzione del 1795 non solo i diritti ci serve capite che questa eguaglianza sia messa in atto non solo scritta la vogliamo in mezzo a noi sotto il tetto delle nostre case per essa noi la consentiamo a tutto a far tabula rasa per conservare essa sola per conservare questa uguaglianza legislatori e governanti che non avete più ingegno che buona fede proprietari ricchi e spietati in vano vi sforzate di neutralizzare la nostra santa impresa dicendo essi non fanno altro che riproporre quella legge agraria richiesta più una volta prima di loro calugnatori tacete alla vostra volta ecco l'empito anche ovviamente propagandistico di questo manifesto come si chiude così perché sapete siamo arrivati più o meno alla termine del nostro incontro come si chiude popolo di Francia popolo di Francia popolo di Francia tra l'altro è ripetuto più e più volte in anafora in questo manifesto degli eguali apri gli occhi e il cuore alla pienezza della felicità riconosci e proclama con noi la repubblica degli eguali ovviamente si tratta per il momento di un'utopia assolutamente irrealizzabile e come vi ho spiegato prima questo tentativo viene troncato con il sangue di Gracco Baboeuf e dei suoi più stretti collaboratori in questo modo abbiamo terminato insomma il nostro incontro su questo periodo del del terrore bianco e del direttorio andiamo come sempre a leggere tutte le osservazioni scritte dai nostri amici su youtube per esempio in pratica dalla comune si passa alla convenzione dalla convenzione si passa al direttorio se non erro attenzione quando parliamo di direttorio parliamo anche di potere esecutivo quindi non solo di potere non solo di parlamento chiamiamolo così la comune è il comune è un'altra cosa cioè appunto ha un potere a livello cittadino è sempre stato qualcosa di parallelo alla rivoluzione francese di parallelo a quelli che erano gli organi dello Stato chiaro? ovviamente noi abbiamo spiegato la volta scorsa ecco perché ce l'ha ricordato il nostro amico Melvin Johnson che comune di Parigi e convenzione durante il periodo giacobino sono perfettamente in sintonia l'una con l'altra come erano i primi movimenti rivoluzionali in ambito sociale e istituzionale? come li stiamo vedendo appunto e raccontando il caso di questa rivoluzione francese che come dicono molti moltissimi è un bellissimo esempio modello anche per capire tanti aspetti quante volte mi è venuto in mente il potere autocratico l'autocrate lo zar quante volte diciamo così ho usato questo termine stasera ogni riferimento a Putin o persona è puramente casuale come avveniva per tradizione la votazione? ah ecco sono le votazioni di questi di questi parlamenti ecco è una domanda questa che come al solito il nostro Melvin riesce sempre a mettermi in difficoltà cioè intendi dire se è scrutinio palese o scrutinio segreto ecco questa sicuramente è una domanda lecita la questione del voto il problema relativo alla modalità di voto era politico sì ecco tagliamo la testa al toro cerchiamo di capire questo che la votazione avviene in questo modo c'è un gruppo misto chiamiamolo così in questa convenzione che come abbiamo visto all'inizio quando si è insediata la convenzione era dalla parte dei Girondini poi passa dalla parte dei Giacobini e poi adesso dalla parte dei Termidoriani cosa vuol dire questo vuol dire che è sicuramente una questione politica cioè chi ha le idee chiare in mente ad esempio abbiamo visto la volta scorsa Robespierre oppure oggi abbiamo parlato di questo Barat riesce a indirizzare il voto e quindi la decisione dei vari parlamenti benissimo quali erano le differenze fra a proposito di Gracco e Babbeuf in quale documento furono esposti gli obiettivi proposti al congiore dell'Eguale ma te l'ho fatto vedere io qua cioè nel manifesto degli eguali lo puoi cercare lo puoi scaricare anche in rete quali erano le differenze fra Babbeuf e i Sanculotti ma allora diciamo che i Sanculotti l'abbiamo visto la volta scorsa si erano alleati con Robespierre oggi abbiamo detto che nell'aprile maggio del 1795 avevano tentato una sommossa e quindi una restaurazione giacobina quindi sicuramente sono legati ai giacobini per quanto riguarda Babbeuf la situazione è leggermente diversa nel senso che Babbeuf non è riuscito ad avere un seguito che lo sostenesse tant'è vero che la sua congiura viene sventata ancora prima di nascere quindi direi che non c'è magari una differenza sostanziale perché è chiaro che i Sanculotti hanno istintivamente questa quest'anelito all'eguaglianza Babbeuf ce l'avrà sicuramente come intellettuali luministi dopo aver letto i libri di Jean-Jacques Rousseau quindi sicuramente ci possono essere dei punti in comune fra gli uni e gli altri ma c'è anche una differenza perché Babbeuf è un intellettuale è un giornalista diciamo la verità non è riuscito nel suo intento di trascinare il popolo e quindi i Sanculotti per realizzare questa sua rivoluzione quale classe sociale stava rafforzando il proprio potere nella Francia nel 1795 la borghesia mercantile in modo particolare cosa chiedeva il popolo insorto a Parigi nella primavera del 1795 la restaurazione del potere giacobino perché il popolo i Sanculotti eccetera avevano visto e toccato con mano come potevano vivere meglio se c'erano delle leggi che per esempio calmieravano i prezzi o i salari perché i Sanculotti non erano d'accordo con i contenuti della Costituzione del 1793 ma chi te l'ha detto i Sanculotti erano assolutamente d'accordo con i contenuti della Costituzione del 1793 che è quella giacobina non erano d'accordo con i contenuti della Costituzione del 1795 che era quella borghese che era quella termidoriana poi i clero e i nobili erano concordi e solidari tra di loro il clero refrattario era d'accordo e solidale con i nobili mentre il clero costituzionale invece era più vicino al popolo quando e perché il popolo parigino prese la bastiglia ma scusate questo l'abbiamo visto nel primo incontro sulla rivoluzione francese cioè sulla base degli stati generali a un certo punto il popolo arriva prende questa decisione perché si intuisce che c'è la possibilità di liberare quei poveracci che sono ad esempio gli imprigionati dentro la bastiglia e di rovesciare l'anzien regime buonasera professore quando frequentavo ancora il liceo classico lo seguivo sempre ancora oggi qualche suo vecchio video me lo riguardo con piacere saluti da Roma carissimo erzappia ecco si sta controllando adesso il cursore funziona benissimo melvin come si arrivò alla definizione di assemblea nazionale questa e anche questo riguarda la prima fase della rivoluzione francese esatto il giuramento della palacorda è quella l'assemblea nazionale costituente quella che appunto porterà poi nel 91 alla stesura della prima costituzione in che consiste ha già detto il giuramento della palacorda è quel giuramento che viene fatto nella sala della palacorda a Versailles da parte di tutti i membri del terzo stato che avevano partecipato agli stati generali ed erano delusi di come il clero e i nobili volessero metterli in minoranza per oggi mi fermo qui con le domande se no non smetto più bravo spero che farà ancora dirette sulla rivoluzione francese del periodo napoleonico senza altro l'ho già detto il 13 aprile sull'ascesa di napoleone veramente interessante il contenuto di quel documento che è il manifesto degli eguali di Gracco Baboff Maurizio Lazzarini la ideologia rivoluzionaria si avvicina di più alla filosofia di Voltaire o a quella di Rousseau l'ho già spiegato quella rivoluzionaria di Gracco Baboff si avvicina di più a Rousseau quella invece dei termidoriani si avvicina di più a Montesquieu con una divisione per esempio dei tre poteri potere esecutivo potere legislativo potere giudiziario per quanto riguarda Voltaire ecco Voltaire è un altro importantissimo filosofo illuminista che è alla base comunque di molti diritti di cui si parla nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino in particolar modo ricordiamo per esempio la tolleranza temo però purtroppo che certi momenti della rivoluzione francese in certi momenti si sia un po' messo da parte Voltaire perché ci si è lasciati prendere come abbiamo visto la volta scorsa con Robespierre dalla forse dalla paura di essere circondati da nemici sì Melvin sono contentissimo delle tue domande e quindi sono stato contento di rispondere alle tue domande e adesso è arrivato il momento infatti di darci appuntamento dopo domani al nostro incontro su A Gaber e Cabaret Milanese mercoledì 16 marzo poi venerdì faremo Per Goriot di Honoré de Balzac domenica 20 marzo la poesia di Hugo von Hofmannstall poeta austriaco a cavallo fra 800 e 900 martedì 22 marzo Matera giovedì 24 marzo la serata U2 sabato 26 marzo San Clemente Romano quarta puntata della nostra storia dei papi quarto papa della storia lunedì 28 marzo la terza crociata storia medievale mercoledì 30 marzo Guarino Guarini prima lo sono dimenticato architettura arte venerdì 1 aprile amore e ginnasti no scusate ho sbagliato venerdì 1 aprile Gaber e la televisione Gaber presentatore televisivo Gaber mattatore insieme con Mina di studio 1 e di altre trasmissioni televisive domenica 3 aprile amore ginnastica di mondo di amici martedì 5 aprile la palestina di geografia martedì 7 aprile che non sarà martedì anche questo ma sarà un giovedì l'Iola di Luigi Pirandello poi il 9 aprile serata Bobo Marley sabato 11 aprile Robinson Crusoe di Daniel Defoe poi il 13 aprile l'ascesa di Napoleone ah sì l'ho detto l'ho anticipato più e più volte stasera il prossimo incontro di storia moderna è il 13 aprile che non è il lunedì però scusate oh maledizione il lunedì è l'11 l'11 aprile è lunedì mentre il 13 aprile è mercoledì e il 15 aprile è il venerdì santo noi ci incontreremo sulla battaglia di maratona storia greca bene terminiamo quindi qua la nostra live che dire grazie grazie anche a voi sicuramente e a ritrovarci su youtube buonasera e buonanotte a tutti voi grazie grazie grazie